Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, questo sarà un breve video di cosa abbiamo fatto durante il nostro San Valentino insieme, abbiamo diciamo più o meno pianificato di fare una cena romantica insieme da Hokkaido e ci siamo fatti i regali che non vi mostreremo perché li faremo vedere in un video a parte, e niente, una buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.